insomma un pizzico di preoccupazione in più mentre vedete che nel sassuolo sono pronti ad entrare due giocatori cosa ha visto Gervasoni qui che non va? che è successo? un colloquio con constant allora vediamo un po' i bonnici vediamo un po' costante prende palla la butta lì fuori ne vuole un'altra ah e poi spizzicola lancia in tribuna viene allontanato dal direttore di gara Gervasoni è andato via rosso questo è un capito anche perché la reazione di constant è stata forse forse dalla reazione di constant di superazzisti perché insomma anche la verità non ho sentito ma nemmeno io ho sentito ma la stessa gente da capito eravamo per la stanza e se ne vuole andare la stanza la stanza la stanza la stanza la stanza Grazie a tutti.